Iniziamo subito con i risultati del tre giorni al tiravolo di Sanremo con titoli prestigiosi in palio sorretti da un montepremio adeguato di 50.000 euro. Il vincitore della prova più importante alla finale della Coppa del Mondo all'elica è stato Mauro Casalini che ha preceduto di un soffio Luca Boschi e terzo posto per Valerio Grazzini che si è però imposto nella classifica Juniores. Juan Ecevarria ha vinto tra i super veterani, Paolo Parrini tra i veterani e Loli Pastor in campo femminile. In precedenza lo stesso Valerio Grazzini, il protagonista assoluto del lungo weekend organizzato dallo Sporting Club del presidente Pierino Calvini, si era giudicato il trofeo Casinò di Sanremo dopo un acceso duello con Giancarlo Serra. Dietro di loro nell'ordine Messori, Bastianini, Proietti, Casalini che si è rifatto nella Coppa del Mondo, Bianchimani e Rebella proprio della società organizzatrice dell'evento.